Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. Carlo Sibiria ieri ha spiegato l'arcano nel modo seguente. Quando ci sono due liste, quella che deve avere il simbolo si sceglie o con le votazioni oppure per decisione del capo politico. Fernando Piccariello è stato scelto dal capo politico di Maio, un processo pulito e democratico. Una domandina a Sibiria e camerati del terzo millennio. E se il processo fosse stato sporco e autocratico, cosa sarebbe accaduto a Tiziana Guidi? Li avrebbero direttamente tagliato la testa?